Ormai siamo giunti alla fine del gioco, tecnicamente, le missioni dei guardiani servono solo per fare esperienza e giungere a livello massimo per poter creare armi e armature e per poter sbloccare gli ultimi incantesimi, per cui posso dire di aver finito il gioco, senza raggiungere il livello massimo e questa per me è già una conquista. Però esistono 4 livelli speciali, 4 Dungeon che regalano 4 reliquie, ma per arrivarci è necessario creare 4 chiavi magiche che fungono da teletrasporto, la prima è il Tesserat, e il Dungeon è stile egiziano quindi unitevi a me e affrontiamo la maledizione di Chtiris. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.